Siamo alla fine del 2023 e come ogni fine anno si fanno i pronostici del prossimo anno nuovo. Purtroppo non sarà un video incentrato su me stesso, quello arriverà più avanti verso la fine dell'anno, ma stavolta si parla di Apple e più precisamente della line-up più incasinata che Apple possa aver mai fatto. Non parliamo dei Mac nemmeno degli iPhone, ma bene sì quella degli iPod. E pensare che da una situazione iniziale come questa siamo arrivati a questa. Nella line-up di iPad quest'anno nel 2023 regna veramente il casino più assoluto, quello che serve è praticamente carta bianca. Quello che vi dirò sarà mischiato dalle mie opinioni personali e dai rumors di Mark Gurman nella sua newsletter Power On che per interesse quasi ogni domenica. Per fare un po' il punto della situazione e come potrebbe essere la line-up, perché l'anno prossimo ci potremo aspettare il grande salto di qualità. Contando anche che quest'anno nel 2023 non c'è stato nessunissimo upgrade, se non l'anno scorso con iPad Pro M2 e in più iPad di decima generazione che ha ricevuto non poca critica all'epoca. Prima di partire da una carta bianca vi riassumo gli iPad che ci sono attualmente. iPad 9 e iPad 10, successivamente iPad Air e dopo i due iPad Pro. Fin qua non è una serie molto confusionaria. Ok, devo prendere un iPad, benissimo. Voglio prendermi l'iPad Air, bene, 780€. Però su 64GB, 64GB non ti bastano, ti serve il 256GB, 950€. Aggiungisci una cover, aggiungisci l'Apple Pencil, superi con poco così, easy i 1000€. Prendete anche caso l'iPad base di decima generazione, costa 5,89€. Aggiungete più memoria, mettete la penna, mettete la cover, qualcosa di più, avete già superato, anzi siete molto sopra con il prezzo. E secondo me va un po' a destabilizzare il fatto della natura di un iPad base. Comunque sappiate che questo video non è una guida su che iPad prendere nel 2000€. Perché qua si parlerà della rivoluzione del 2024 e forse in caso l'anno prossimo vi faccio uscire il video su che iPad prendere. Perché adesso non ha assolutamente senso, soprattutto verrebbe fuori un video chilometrico per dirvi se ma forse qua giù e lì. Quindi evitiamo. Come primo punto parto dall'iPad Air. L'iPad che penso che sia per la maggior parte delle persone che vada veramente molto bene. Attualmente di quinta generazione con processore M1. Si parla di un aggiornamento giusto piccolo piccolo con il processore M2 che attualmente troviamo negli iPad Pro attuali. E si parla anche di una versione ancora più grande per la serie di iPad Air. Si parla di un 12.9 pollici. Il che sarebbe molto comodo perché se fin poco tempo fa commercializzavano prodotti con grandi diagonali di display per i prodotti Pro. Attualmente Apple ha anche adottato questa politica nei dispositivi meno costosi. Basta vedere iPhone 14 Plus, 15 Plus e i nuovi MacBook Air. Quindi è possibile che Apple produca e commercializzi un iPad Air con diagonali ancora più grandi senza andare a spendere una fracca di soldi su un 12.9 pollici di iPad Pro. E spero anche in bene in un cambio di memoria per gli iPad Air perché spendere quasi 800 euro per 64 giga ora è fuori luogo. E spero almeno per iPad Air che partiranno da una memoria di 128 giga. Passiamo invece all'iPad Pro che lì ci saranno i grandissimi cambiamenti. Ci sarà un aggiornamento al processore che sarà l'M3, né Pro né Max, l'M3 base. In abbinata si parla anche di una nuova Magic Keyboard, Magic Keyboard che non esploda anche la compatibilità con iPad Air. E dopo finalmente si passa a un Apple Pencil di terza generazione molto probabilmente. Ormai la 2 c'è dal 2018 quindi forse sarebbe anche l'ora di aggiornarla. E questa terza generazione di Apple Pencil pare che dovrebbe integrare con sé il cambiamento dei colori. Una cosa che si è rumore già da tempo fa ma che se dovesse essere in realtà sarebbe molto comoda nel campo del disegno. Si parla anche dei display su quanto riguarda le dimensioni. Allora i bordi dovrebbero essere ridotti ma c'è anche un rumor che dice guardate che potrebbe esserci l'iPad Pro da 14 pollici. A parere mio questa scelta di aumentare gli schermi è per un discorso di utilizzo di lavoro. Praticamente sono arrivati Final Cut, Logic Pro seppur limitati e DaVinci sempre su iPad. Quindi probabilmente avere uno schermo più grande aiuterebbe molto di più. Si parla anche dell'introduzione di Dynamic Island come su iPhone ma la vedo veramente molto dura perché una Dynamic Island sull'iPad la faranno via software molto probabilmente. Bookare uno schermo di un iPad non penso che lo faranno perché metti caso tu c'hai l'iPad dritto con la Dynamic Island in alto, lo giri e ti trovi la Dynamic Island in basso. Come detto prima potrebbero farlo via software però già vedo la rivolta degli utenti con iPad Pro M1 o addirittura con quelli del 2020 che dirà Ehi io sono escluso? Cioè mettetemi sta a funzionare un po' come la percentuale della batteria su iOS 16 tipo una roba del genere. Penso che come memoria partiranno dal minimo di 256 GB. Chiudendo il papiro di iPad Pro passiamo invece agli ultimi due iPad che rimangono ovvero iPad Mini e iPad Base. Prendo in esame il primo che ho nominato il Mini. Per quanto l'iPad Mini possa essere molto funzionale, molto ergonomico perché letteralmente lo tieni con una mano, oltre a pezzo fuorviante a cui viene proposto penso 650 euro se non di più, comunque il Mini lo considero la versione più piccola dell'iPad Air seppur con qualche mancanza. Non ha compatibilità per la tastiera con la Magic Keyboard e comunque salso perché è letteralmente piccolo. In più non ha un processore M1 ma ha una 15 quindi processore che troviamo sugli iPhone. A parere mio ci possono essere due alternative per l'iPad Mini. O mi tengono la versione Mini con il chip per gli iPhone quindi probabilmente ci troveremo una 17 Pro perché inserire una 16 non ha senso perché cambia ben poco. La 17 attualmente non esiste a meno che non faranno una versione ad hoc però c'è la 17 Pro che può essere integrato. Ha una grande potenza lato CPU ma anche tanto lato GPU. Potrebbe essere anche utilizzato se così vogliamo come console da gaming l'iPad Mini essendo anche comunque molto portatile, ergonomico eccetera. Una cosa che storce un po' è inserire la nomenclatura Pro su un iPad che non è Pro di suo. A meno che non facciano il salto e mettano un M1 o un M2 come l'iPad Air. E questo cosa consentirebbe? Stage Manager è anche il supporto al monitor esterno più vicino ai Mac possibili. E il fatto del monitor esterno e di Stage Manager potrebbe essere anche compatibile anche con la 17 Pro. Perché la 17 Pro ricordatevi ha una potenza disumana. Per ultima cosa e dopo chiudo il video passiamo agli iPad base. Non credo che ci saranno moltissimi miglioramenti rispetto all'iPad attuale. A parermi l'anno prossimo non vedremo upgrade alla linea di iPad base. Uno scenario molto possibile è che Apple possa rimuovere nel corso del 2024 l'iPad di nona generazione e mantenere solo cui decima generazione. Rilasciare un iPad 11 cosa ci aggiungi di più? Quasi niente. A meno che non diventi un processore sempre di serie A ma che cambia ben poco. Una 17 non penso proprio. Preco da iPad base non è che ci dovremmo aspettare molto. Spero che questo video sugli iPad vi sia piaciuto. Se è stato così lasciate un bel like, commentate e condividete. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.